Buongiorno, sono Giuseppe Bagni, Presidente Nazionale del CIDI, Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti. Sostengo la New Generation Tax, la legge di iniziativa popolare, perché sarà il più grande investimento pubblico fatto sui giovani, e cioè sul futuro del Paese, e una grande opportunità, un punto di partenza per costruire un Paese più giusto e più equo, con la possibilità di offrire asili nido gratuiti e un accesso libero alla scuola e alla università.